Ciao Matteo, allora come primo esercizio fai plank 30 secondi con una gamba sollevata, subito 30 secondi con l'altra, subito vieni su e raccogli le ginocchia, ok? 15 volte. Poi riposi 30 secondi e lo rifai per 4 volte. Secondo esercizio, piegamenti, ok? Scendi piano, 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 4-5 secondi per scendere, stai giù senza toccare con il petto per terra, stai giù a 3-4 cm da terra, anche qui per 4-5 secondi e poi vieni su in modo esplosivo, quindi giù, piano, 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 rimani giù, 1-2-3-4-5, su, ok? Anche questo ne fai 4 per 10 o 12 e riposi un minuto tra una serie e l'altra. Poi alterniamo un attimo, facciamo parte bassa, gambe, allora squat in isometria, ok? Bene dritto con la schiena, giù col sedere, stai 30 secondi così, in su, affondi all'indietro, ok? Alternando prima una gamba, poi l'altra e ne fai 12 per gamba. Riposi un minuto e ripeti 4 volte, poi ti metti su, adesso prendo questo giusto per farti vedere, ti metti tra due sedie o tra una sedia al letto, una sedia al tavolo, divano, tavolo, quello che vuoi, ok? In questa posizione, vai giù, su, ovviamente io qua non riesco ad andare giù tanto, però su una sedia poi andai giù un po' di più, ok? Fai 4 sedie da 15 ripetizioni, riposi un minuto tra una serie e l'altra, poi, l'ultimo esercizio, allora, da questa posizione, braccia larghe, piegate a 90 gradi, vieni su col busto, distendi in avanti e porti le braccia indietro, come se dovessi nuotare, vai indietro, avvicinando le scapole e sollevando il petto, ok? Poi, giù, avanti, indietro, avanti, indietro, ne fai 10 in super sedie con questo, ok? Braccio e gamba opposta, tieni tese sia il braccio che la gamba, ne fai 10 per parte, anche qui, riposi un minuto e ripeti 4 volte, per il momento va bene così, fammi sapere come va, ciao, a presto!